Che cosa vedi nel tuo futuro? L'idea di vedere il proprio futuro sembra una cosa da veggenti, una di quelle che trovi solo nei film. Secondo me, invece, significa intraprendere una strada che è già di fronte a te. Con chi ama l'arte succede spesso così. Queste persone sanno già che strada vogliono intraprendere. Se vuoi fare dell'arte la tua vita, l'indirizzo di arti figurativi del liceo artistico Foppa è quello che fa per te. Il suo metodo innovativo ti permetterà di conoscere i linguaggi e le tecniche della produzione artistica, tra tradizione e innovazione. Potrai godere di un approccio autenticamente multimediale e laboratoriale, merito della logica flessibile, ma anche della presenza degli spazi all'avanguardia del Foppa Lab. Non solo, la didattica multidisciplinare, la presenza di docenti madrelingua e la costruzione di percorsi per lo sviluppo di competenze trasversali ti permetteranno di affacciarti al mondo del lavoro con un profilo davvero completo ed attuale. E proprio la relazione col mondo del lavoro è uno dei fiori all'occhiello del nostro curriculum, grazie al servizio di orientamento, ma anche ad incontri con professionisti di settore ed esperti provenienti dalle realtà dell'arte e delle imprese. Alla fine del tuo percorso sarai in grado di muoverti in molti ambiti diversi, padroneggiando tanto gli aspetti progettuali quanto quelli operativi, e spostandoti dalla pittura alla scultura, dal disegno alla grafica. Sarai inoltre in grado di cogliere i valori estetici nelle opere d'arte ed intervenire nella tutela e nella valorizzazione dei beni artistici e culturali. Sarai in grado insomma di costruire un progetto che porti il tuo nome, il progetto del tuo futuro. Con un'esperienza più che trentennale nella formazione, noi del gruppo Foppa abbiamo costruito il domani di centinaia di ragazzi come te. Noi ti promettiamo che ci metteremo tutta la nostra competenza, la nostra professionalità, la nostra passione, ma soli insieme potremo costruire il tuo futuro, perché il futuro sei tu. Diceva Albert Camus, creare è dare forma al proprio destino.